Ciao ragazzi! Ciao! Oggi video spacchettamento di due cose che ho ordinato su Amazon, come si può vedere Sono i vostri costumi di carnevale E visto che quest'anno non si potranno fare grandi feste, grandi cose Abbiamo deciso di compensare prendendo almeno due bei costumi strani da poter usare in casa Pronti a scoprirli? Sì! Ok! Vediamo se è il mio Sì, questo è il mio E questo è il sì che è il mio Vediamo un po' che cosa avete scelto Wow, un jetpack! E io ho il drago che si può cavalcare Sì, il drago bianco Allora, io voglio proprio vedere intanto se abbiamo azzeccato la taglia innanzitutto E poi anche se sono belli come sembravano dalle immagini Vai, aprite Ok, vediamo Mamma mia, dai metteteveli che sono curiosa di vedere che effetto fanno I tuoi piedi devono finire dentro il razzo Qui c'è la testa La testa, ok Ok Ah, ok, questi sarebbero i tuoi piedi Daria, sembra che vola perché le gambe sono qui Eh, infatti però l'effetto ancora non si vede perché li dobbiamo far gonfiare Eh sì, e ora li gonfiamo Allora, troviamo questo interruttore all'interno del costume E provate ad attivarlo Proviamo, dai, azionate su on Si sta gonfiando? Sì Daniel, ma sei sollevato da terra Sì, stai volando Wow, sto volando Sì Oh, attento, attento, attento Stai per cadere, no No, 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 ti tieni, ti tieni Guarda, ma sono anche cammineri Ma, ma il drago di Alissa resta così Ma è un drago moscio Dai, draghetto Dai, che ce la puoi fare Ecco che anche il drago di Alissa Si sta gonfiando Oh, anche la coda Dai che la coda è già dritta, eh E adesso tu dove vai? Sulla luna? Mamma mia, dai Comunque è realisticissimo l'effetto, eh No, comunque quello di Daniel è bellissimo No, è veramente bellissimo Eccolo, anche il drago di Alissa Oh, finalmente anche il drago di Alissa Si è gonfiato, è bellissimo Guardate un po' come lo cavalca Ecco, mi danno un po' sotto Che bello Fuoco E allora io ti mangio Gia, gia, gia Foco di ferro E mi ha scattato lì Drago bianco, occhi blu Attacca razzo spaziale Aspetta, fammi vedere Ma Alissa, il tuo drago è buono Oppure morde? Vediamo un po', è buono È buono Aiuto Ti muro Vai, usciamo un po' fuori Ma non si sta pure bene, vero? Sì Costumi gonfiati al massimo Come si chiama il tuo drago, Alissa? Si chiama Draco Malfoy Oh Molto originale Guarda le mie gambine Alissa, tu sei lì seduta Bella comoda Comunque ragazzi Vi sono piaciuti questi costumi? Sì Devo dire che non sono stati Una fregatura Anche se il drago di Alissa all'inizio non si gonfiava Adesso è diventato bellissimo Perciò bisogna avere solo un po' di pazienza Veramente belli E poi secondo me questi Vi staranno bene per un bel po' di tempo Perché Sono belli grandi Sì, sono grandi Insomma Costumi di carnevale approvati Buon divertimento Buon carnevale E ci vediamo al prossimo video Ciao Corretti prima che Draco Malfoy vi mangia Aiuto, aiuto Ah! 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 Ciao! 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 aura! Grazie a tutti